bentornati una nuova puntata di facciamo finta che un ritorno e quindi andiamo anche a fare esordire quella che un'altra playlist del nostro canale youtube è una seconda fa della nostra trasmissione televisiva perché perché ritorniamo a grande richiesta insieme a un nostro grande amico marco da marco ricordi graia che ti devo anche ringraziare pubblicamente per tutto l'aiuto e supporto che ci dai no assolutamente un piacere perché è veramente un amico di tanto salutiamo saltiamo tutti gli ascoltatori ha dimostrato entusiasmo dalla prima puntata era dall'inizio di questo progetto che ricordiamo voi vedete ora è che siamo poi questo 2021 ma nasce anni fa anni fa sì 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 incubazione per un po di tempo ci ha messo sì un parto piuttosto lungo sì neanche gli elefanti riescono non avevamo freddo siamo venuti così alla luce però dobbiamo dire che il risultato è stato buono no vediamo lo lasciamo dire voi però per ora devo dire che grazie a puntate come la tua scorsa che mi invito fin d'ora ad andare subito a recuperare perché quella sulle divinità blu sugli dei blu sugli uomini blu ha riscosso un grande successo quantomeno anche a livello di audite in televisione che se non è carino parlarne insieme a te perché perché anche un argomento che di cui abbiamo parlato spesso anche fuori dalle telecamere magari davanti a un aperitivo un cocktail proprio la nascita del nazismo esoterico io ho voluto partire con te oggi con questa nuova puntata perché sono degli argomenti interessantissimi e verso la fine cerchiamo di collegare un sacco di altre puntate che abbiamo fatto di tematiche che abbiamo fatto sì sì ma dunque è un argomento sicuramente molto interessante però è un argomento su cui si sentono dire anche moltissime sciocchezze in circolazione quindi bisognerebbe quando si vanno a sentire video non su queste cose cercare di distinguere un pochino quello che è la ricerca di un qualche cosa di sensazionalistico piuttosto con quella che ricerca storica piuttosto che sai conoscenza conoscenza storica quindi noi ci limitiamo a dire ciò di cui abbiamo sicurezza nel senso che sappiamo che è avvenuto qualche cosa che e non il sentito dire piuttosto che mi sembra che anche se rimaniamo naturalmente nel filone della nostra trasmissione del facciamo finta che nel senso che i documenti in mano non li abbiamo però facciamo riferimento agli storici e quanti abbiano riportato queste queste informazioni bene il nazionalsocialismo esoterico o nazismo esoterico ha un'origine veramente molto molto antica nel senso che già a metà ottocento vi erano degli studiosi specialmente in ambito germanico ma non soltanto anche in francia piuttosto che in inghilterra qualcuno anche negli stati uniti che andavano a ricercare queste antichissime conoscenze e per antichissime intendo dire proprio facente facente riferimento addirittura i sumeri cioè proprio la base di tutto erano i sumeri teniamo presente che il mondo sumero nell'ottocento era praticamente sconosciuto cioè non vi erano ancora stati gli scavi la lingua non era ancora stata decodificata era un mondo abbastanza sconosciuto mentre invece parrebbe che in certi ambiti si sapesse molto di più di quello che potevano sapere anche i docenti universitari per dire perché attraverso uno scuro filone sotterraneo dall'antichità era giunta erano giunti in europa tutta una serie di informazioni che erano arrivate ai ricercatori agli studiosi dell'ottocento bene nell'ottocento incominciano a uscire una serie di libri su shambhala sul terracava su tutta una serie di informazioni che arrivavano dall'oriente soprattutto dal tibet dal buddismo esoterico dai veda soprattutto grazie all'impulso che diede madame blavatsky con la sua teosofia e con tutti gli studiosi che seguirono che portarono l'europa e gli stati uniti a conoscere un mondo che fino a quel punto era un mondo un po sconosciuto insomma l'avevano fatto conoscere gli inglesi ma si limitava ad essere sai la caccia alla tigre con l'elefante voglio dire non è che fosse un mondo conosciuto per la sua sapienza per la sua antichissima antichissima sapienza ebbene fra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento soprattutto in germania e direi specificatamente a monaco di baviera incominciano a formarsi dei gruppi che si danno una struttura esoterica tipo se vogliamo dare un termine come se fosse anche se non è così come se fosse una loggia massonica nel senso che devi essere un iniziato per entrare deve avere certe conoscenze devi essere accettato devi avere certe competenze altrimenti non entrare ecco che una di queste organizzazioni ottiene una certa qual così fortuna non certo quali che sarebbe thule che ufficialmente dopo un po di tempo dopo la prima guerra mondiale sparisce però sembrerebbe che sia rimasta nella nella conoscenza insomma un po così al di sotto soprattutto perché i suoi componenti erano andati a formare la classe dirigente del partito nazionalsocialista ad esempio rudolf es heinrich himler rosenberg dal re che furono ministri furono cioè quelli che sostanzialmente comandavano la germania alle spalle alle spalle di hitler hitler era la figura di rapporto con il popolo era quello che magari dava i comandi e quello però in realtà che ti comandava dietro erano erano questi personaggi da dove era sorto tutto questo era sorto da un personaggio veramente molto molto curioso e molto strano von lisenfeld che eccolo qua lo vediamo adesso era un monaco cistercense spendiamo due parole su chi sono i monaci cistercensi monaci cistercensi sono quelli che conservano e tramandano la sapienza per intenderci sono quelli che collaboravano con i templari per la conoscenza per la costruzione delle cattedrali e via discorrendo quindi non sono dei monaci che si limitano a pregare sono quelli che nel medioevo riscrivevano i libri ma li studiavano anche nel nei suoi studi il nostro libenfeld deve essere incappato in qualche testo sicuramente molto antico che gli ha un po sconvolto la vita lui molla il convento e si ritira sulle montagne sopra linz curiosamente dalle parti dove è nato dove nato hitler e forma una piccolissima comunità prende un villaggio abbandonato sono proprio 6 7 case e lo trasforma in una specie di convento e in questa sorta di convento vanno ad abitare degli studiosi ex preti cattolici ed ex pastori protestanti e tutti si mettono a studiare le antiche conoscenze soprattutto riferite ai miti nordici quindi parliamo di odino tor e via discorrendo con tutti i legami che c'erano con gli antichi sumeri soprattutto quindi ecco che abbiamo un substrato che arriva da molto lontano cioè hitler di tutto questo non ha conosciuto nulla perché lui è entrato in contatto con queste persone dopo la prima guerra mondiale lui prima abitava a linz poi a vienna e dopo la guerra si era fermato monaco di baviera ma forse siccome lui era un pittore sai che i pittori magari hanno degli interessi per il simbolismo cose di questo genere fu attirato da queste cose con fu contattato da qualcuno forse rudolfes che lo fece entrare in questa organizzazione per già qui c'è una una bella indicazione nel senso che la gente associa subito il nazismo la sua nascita a hitler in realtà viene dopo quindi tutte queste ideologie queste società queste scuole iniziati che sono antecedenti e vedremo poi nel corso anche se di questa trasmissione di questa puntata in che punto poi hitler arriva realmente è il ruolo invece di himmler che è un po il vero curattinaio si direi che è il vero deus ex machina di un po tutta la situazione parliamo del nazismo esoterico il nostro himmler si promuove organizza fonda le ss quindi la parte che doveva rappresentare i nuovi cavalieri teutonici no quindi i cavalieri medievali ma visti in una veste moderna che avevano un compito ufficialmente erano le guardie militari dell'organizzazione del partito perché allora tutti i partiti siccome era un'epoca piuttosto burrascosa soprattutto dopo la prima guerra mondiale si è socialdemocratici che i comunisti che i nazionalisti che quindi anche il partito nazionalsocialista avevano una sua organizzazione paramilitare che serviva per proteggere le manifestazioni eccetera eccetera le ss furono questa sorta di servizio d'ordine del partito nascente partito nazionale socialista e furono organizzate fondate da himmler ma lui gli diede subito un'impronta diversa cioè chi entrava nelle ss non lo poteva fare soltanto perché era fedele al partito ma doveva assolutamente entrare in una mentalità e seguire una serie di corsi che lo dovevano portare ad avere certe quali conoscenze sappiamo che sia militari che i sotto ufficiali che perché le ss erano organizzate veramente come un esercito un piccolo un piccolo esercito ma aveva i suoi gradi no avevano nomi completamente diversi però c'era caporale sergente noi discorrendo fino al colonnello generale e dovevano seguire dei corsi in cui imparavano tutta una serie di informazioni partendo dalle cose più basiche ad esempio quelle sulle sulla cultura nordica quindi le rune quindi i druidi quindi gli antichi dei no tutte le mitologie del nord quindi la guerra fra gli dei buoni gli dei cattivi il odino il suo cavallo tor che viaggia sul con il carro insomma tutte tutte queste cose qua dovevano imparare quello poi chi si dimostrava più attento più perché aveva delle capacità maggiori delle possibilità maggiori ecco che lo fanno entrare ad un livello di segreti maggiore fino ad arrivare a un certo punto di conoscenze che noi non sappiamo più quali sono perché non ve ne tracciano non hanno riportato dei dei documenti però sappiamo che avvenivano dei riti dei riti che ufficialmente erano dei riti che derivavano dall'antichità no quindi che erano svolti dai vichinghi dagli antichi germani dagli antichi centri quindi delle riunioni notturne in cui questi cavalieri si mettevano in un cerchio con le torce insomma e avveniva una qualche forma di rito in questi in questi riti venivano evocati gli antichi dei perché di essere la protezione i cavalieri eccetera eccetera ecco che il sole nero vedo vedo l'immagine eccole esattamente questa questa la facciamo vedere anche voi a se la facciamo la facciamo vedere subito questa è il pavimento intarsiato del castello di bevelsburg questa qui è la rappresentazione di una runa che veniva identificata come una runa molto potente perché ad ogni runa viene dato un livello di di forza maggiore perché vengono usate anche come talismani secondo antiche tradizioni ebbene questa qui rappresenta il sole nero ora il sole nero può identificare due cose può identificare o la il fatto che una stella muore e quindi diventa diventa materia oscura e quindi non c'è più no e quindi potrebbe fare riferimento siccome la tradizione portata avanti da libensfeld e da fons e boltendorf eccetera eccetera era quella che l'uomo bianco è di origine di aldebaran cioè gli antichi progenitori della della razza bianca erano arrivati da aldebaran si erano uniti con le donne terrestri avevano dato vita alla alla razza bianca che secondo loro è completamente diversa dalle altre razze umane perché perché abbiamo la pelle di un colore diverso perché abbiamo la barba perché abbiamo i capelli anche biondi e rossi eccetera perché abbiamo anche gli occhi chiari e quindi si era costruito tutto questo mito sulla differenza delle razze ma non tanto una differenza dovuta al fatto che io sono più bello e quindi no tu sei inferiore ma per il fatto che le altre erano razze terrestri oppure di origine di altri pianeti mentre invece perché vi è tutta la teoria riportata anche sulla bibbia eccetera cioè che le varie razze umane sono state create da questi angeli tra virgolette non che sono venuti sulla terra a creare gli esseri umani ce lo insegnavano i sumeri ce l'hanno insegnato gli antichi cinesi ci sono le tradizioni nell'egitto non c'è tutte di tutte queste tradizioni abbiamo queste popolazioni che si ritengono discendenti di qualcuno ad esempio vi faccio solamente un esempio sul corano vi è scritto chiaramente che alla è il signore della terra e di sirio quindi si fa un riferimento secondo certi eseggeti islamici che il mondo semitico è legato come origine come origine a sirio noi non lo sappiamo non lo possiamo sapere ma questo c'è scritto c'è scritto sul dato noi facciamo finta quindi nessuno si può sentire offeso ma nel fare finta vi raccontiamo delle cose e l'anello conduttore un po l'anello comune filo conduttore unico lo si lo si evince e voglio sottolineare un po in base a quello che ci hai detto quindi ci colleghiamo che con le altre puntate i veda oltre 400 mila specie umanoisi nello spazio molte delle quali sono passati da questo pianeta ma poi soprattutto è molto interessante chiederei a nostro manuel in regia di farci vedere poi il collegamento con i sumeri i sumeri di cui tanto ci avete chiesto e ci colleghiamo intanto andiamo a vedere quindi anche qui una sorta di deja vu su questa su questa nascita della razza umana questi questi dei sumeri e in chi è l'ill e via discorrelli andiamo a vedere questo gesto fra l'altro è molto interessante perché lo andiamo a paragonare ecco io ti chiederei bravo di aspettare un attimo su questa immagine di queste due divinità assumere perché vorrei farvi notare alcuni particolari innanzitutto hanno rappresentate sul retro leali queste sono una rappresentazione simbolica per indicare che era una divinità no le ali rappresentano quando noi vediamo delle di basso degli evi o delle sculture o comunque un qualche cosa che arriva dal mondo il sumero possiamo avere delle rappresentazioni umane o delle rappresentazioni di dei o semi dei quando vediamo che dietro la persona vi sono le ali e perché questa è identificata come divinità le ali perché questi sapevano volare cioè nel senso che discendevano dal cielo ma facciamo attenzione sull'elmo si vedono tre corna nel caso specifico questo è indicano il livello della gerarchia degli dei questa è una divinità già di alto livello perché a 33 corna il massimo no che potevano arrivare era 4 o nel caso di enli ed enki potevano arrivare a 5 ecco non quindi quando noi vediamo nel mondo nordico i celti germani vichinghi che hanno l'elmo con le corna no è proprio un retaggio di questa di questo simbolo perché loro si identificano sì come discendenti non di queste divinità però erano di un livello basso quindi ecco che avevano solamente 22 con ma lo notiamo anche ad esempio su asterix chi era il capo o anche udino viene rappresentato viene rappresentato con l'elmo che aveva le due ali no questo perché lo rappresentava come già una divinità cioè un qualcuno che era era superiore dalle capacità superiori e fra l'altro ricolleghiamoci invece a gesto facciamo la gestualità perché anche qui quindi apriamo una piccola parentesi poi ritorniamo in ambito temporale a quello che stavamo dicendo ma il saluto quindi la gestualità che abbiamo lo vediamo sempre associato a italia lo andiamo a vedere questo simbolo quasi che da non confondere con il saluto romano che è tutt'altro sì allora saluto romano si diffuse nel nel novecento un po in tutta una serie di ambienti pare che fosse stato nostro denunzio a presentarlo la prima volta che serviva come contrapposizione al pugno chiuso all'epoca di socialisti e dei comunisti ma quello che abbiamo visto però era un saluto che veniva identificato come romano perché si diceva che i romani però in realtà lo facevano gli etruschi lo facevano i greci quando salutavano presentavano la mano così ma era un gesto per far vedere che tu non eri armato no quindi per far vedere che ti avvicinavi ma ti avvicinavi in pace no quindi facevi vedere la mano aperta mentre invece quello che vediamo in questa raffigurazione di hitler è un gesto che è diverso è un gesto che comporta una figura tu che sei esperto del mondo indiano eccetera io non voglio dire che abbia una qualche corrispondenza con non solo yoga però mettere il corpo in certe posizioni può portare ad avere delle possibilità delle si movimenti catalizzatori piuttosto che emanatori di certe energie ecco qua questa questa immagine è una rappresentazione della runa che indicata nell'angolo che viene identificata sempre come la la s no che in effetti viene utilizzata nelle ss non la doppia che è una runa questa qua è la rappresentazione fisica di questa runa in effetti vediamo che la mano sinistra veniva appoggiata all'ombelico quindi veniva posizionata sul cinturone no per dargli la posizione sacra molto particolare non c'era molto particolare che tu ci insegni poi c'è questa parte della della colonna che viene su fino al punto delle corde vocali quindi alla alla gola e da questa parte si prosegue verso il braccio come una sorta di emittente no che va verso il braccio e la mano è messa in una posizione veramente particolare perché le dita sembrano estremamente tese se tu potessi poi dopo ritornare magari anche sull'immagine di hitler che vedevamo prima vedete che la mano non è morbida in un gesto cioè le dita sono veramente tese e il pollice e piegato in una certa maniera se voi andate a vedere i filmati che ce ne sono centinaia su youtube su altri quando hitler saluta si presenta al congresso insomma passa in automobili fa un saluto che è diverso magari da quello di mussolini perché lui lo faceva più basso comunque non è non è importanza mentre invece lui quando si rivolgeva alla folla che quindi era davanti ad una folla che lo doveva ascoltare aveva questa posizione questa posizione particolare cioè lui ricreava questa questa runa fisicamente perché per come non sono in grado di dirvelo però ecco che è un era un qualche cosa che lui evidentemente aveva imparato certamente non a scuola ma aveva imparato frequentando tool e frequentando questi circoli esoterici e abbiamo visto che almeno secondo la loro tradizione deriva dei sumeri ma la rivediamo nelle molti basso rilievi sumeri dove questi addirittura in mano hanno quella che loro identifiche identificano gli studiosi come una pigna no però non in realtà non sappiamo che cosa sia ecco la vedete una pietra un qualche cosa che forse serviva come per inviare un qualche un qualche o una qualche onda qualche cosa si va anche a collegare a tutte le nuove tecniche di programmazione neurolinguistica la pnl con anche ipnosi gestuali e come ci si rivolge ad una massa che l'energia che risale da dalla massa ma ritornando così chiudiamo anche il discorso un po di 3 le possiamo proseguire anche più più che fa autore in alcuni racconti sembra esserne anche un po tra virate vittima o spaventato da da queste conoscenze e c'è un aneddoto allora c'è un aneddoto molto famoso che ha riportato il suo maggiordomo quando lui quando poteva il versi andava a prendere alcuni giorni di riposo sui monti della baviera in baita su in alta montagna che la chiamavano la tanna del lupo e si portava dietro la sua compagna eva brown a volte qualche amico e il suo fedele maggiordomo e poi c'era il cuoco c'era la cameriera c'era un po di personale lui qui normalmente passava il suo tempo a leggere e studiare proprio per rilassarsi rilassarsi completamente a volte passava anche la notte a leggere a leggere e studiare succede che una notte ormai tutti erano andati a dormire e sentono hitler urlare urlare come se ci fosse qualcuno che cercasse di distruzzarlo no cioè tutti si spaventano corrono in camera sua e hitler è rannicchiato in un angolo questo racconta il suo maggiordomo noi non eravamo presenti quindi non possiamo né confermare né negare la cosa lui era rannicchiato in un angolo con gli occhi sbarrati terrorizzato e si mette a gridare e lì e lì ho visto l'uomo nuovo è tremendo e tremendo no tutti si avvicinano lui dice no è andato via non c'è più non c'è più lo tranquillizzano sapete che hitler l'unica bevanda a parte l'acqua che beveva era la camomilla no perché da giovane beveva la birra poi entrando in tulle cosa è diventato vegetariano beveva soltanto la camomilla insomma gli fanno una tisana ma che cosa cercano di tranquillizzarlo e lui dice che ha visto l'uomo nuovo ossia l'uomo che sarebbe dovuto nascere in futuro dalla dall'evoluzione della della razza umana e dice che ne era rimasto risparmentato ma non per la forma perché non era certamente un demone secondo certe visioni ma era un non sappiamo forse con una potenza forse emanava luce non sappiamo non sappiamo però si è spaventato e qui ci ricolleghiamo anche alla blavansky in cui gli ariani vengono citati se possiamo anche proseguire il nostro collegamento perché abbiamo detto quindi andando a riprendere un po lo schema da cui nasce un po la sbastica questa croce uncinata come meglio si chiamare appena il nostro mano e ce la ce la fa di nuovo vedere in realtà vediamo ancora un elemento che si è quello qua perché abbiamo visto il sole nero tour e la teosofia di nuovo la blavansky e vediamo poi il brille dunque tu hai citato la sbastica devo farti notare una cosa perché addirittura nei film è stato presentato è una cosa assolutamente non verano cioè si racconta che fu hitler a inventare la bandiera del nazionalsocialismo durante una cena presentata con con degli amici eccetera dice non questo sarà il nostro vessillo non è vero fu invece fondi libensfeld cioè quel monaco fu lui a identificarla disegnarla e a cucirne la prima e aveva un simbolo particolare ossia il lo sfondo rosso onestamente non ti so dire il significato ma il cerchio bianco era il simbolo del sole ma non giallo come il nostro c'è un sole molto più potente quindi direi che potesse essere quello di aldebaran non lo sappiamo ma è curioso per un particolare la sbastica che viene utilizzata dal nostro libensfeld e quindi dal nazionalsocialismo è uguale ma contraria a tutte quelle che sono presenti dall'antichità nel nella storia umana per noi ritroviamo in tibet troviamo in cina le troviamo in india fra i sumeri a roma fra i celti in grecia e via discorrendo ma sono tutte girate dall'altra parte il nazionalsocialismo si invece ce l'ha già da questa parte in qual è il motivo è che la svastica identificava il ruotare del sole e quindi il simbolo che era stato identificato era sì un sole diverso dal nostro non giallo ma bianco quindi molto più potente ma che ruotava nell'altro senso quindi come se su aldebaran i loro antenati avessero avuto un sole accecante molto più potente del nostro ma che aveva un viaggio al contrario del nostro cioè sorgeva a ovest e tramontava e tramontava adesso adesso interessante interessante e allora per riprendere un po torranno un po sul bril fra l'altro in questa narrazione mi scuserete ma io effettivamente da 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 nostre discussioni poi con gli anni ho riscontrato quello che tu mi hai detto per la prima volta cioè il collegamento tibet nazismo tibet germania con il ritrovamento di che cosa di monaci tibetani o in caso ormai quindi monaci che hanno combattuto quindi cadaveri di mosi tibetani che fino all'ultimo hanno difeso il centro di berlino si il bunker book in cui itler pare secondo alcune versioni avesse avuto la sua fine e quindi questo collegamento fra l'altro sono sbagliato come ti che i russi hanno trovato gli hanno trovato in russa il saldo per prima che sono entrati a maggio si sono tratti i russi sovietici nel caso specifico entrarono a berlino il 4 5 di maggio e la strenua difesa del bunker fu fra altri ss tedeschi eccetera eccetera vi erano questi monaci ma questo gruppo di monaci non è del buddismo più comune cioè quello che conosciamo noi che hanno questo questa tonaca bordeaux ma erano identificati come i monaci dei guanti verdi ossia di un gruppo ristretto di monaci buddisti pare che siano quelli che detenevano la conoscenza di dei legami fra il popolo cosiddetto ariano con gli antichi dei che hanno appunto arrivati dalla arrivati da aldebarano in effetti in effetti himmler aveva organizzato anni a dietro una spedizione ci fu un film famosissimo anche se edulgorato per quella che doveva essere la storia della somma di hollywood no la film mi sembra si grossa sette anni segnali sette attivano con segnalità esatto in effetti questa spedizione avvenne andò un gruppo di scienziati delle ss in in tibet per cercare i legami con gli antichi progenitori questo perché perché la leggenda il mito che vi era all'interno di thule era che i primi uomini bianchi erano nati nella zona del tibet o in tibet proprio e alcuni discendenti erano rimasti con gli antichi dei all'interno di shambhala o comunque nelle viscere nelle viscere del tibet e vi annuncio anche un collegamento sulla puntata dell'antartide ma chiudo velocemente la parete perché tutto tutto si chiude anche lì ma parliamo ancora del tibet perché il tibet e la capitale era l'asa sotto l'asa sotto un imponente palazzo che andiamo a vedere c'è il collegamento con i drill con la società dei vissi e adesso ne andiamo a parlare sono posti fra l'altro fantastici fantastici dunque allora si dice che si narra che uno degli ingressi per shambhala sia sotto questo monastero che fungeva anche da palazzo del governo non che c'è al centro di lasani vi abitavano i monaci di più alto livello vi abitava lama che poi con l'occupazione cinese si è trasferito si è trasferito in media ma ti raccontò una chicca che non ho mai non ho mai raccontato quando i nostri scienziati tedeschi volevano andare in tibet l'unico modo per arrivarci era attraverso l'india all'epoca l'india è una colonia inglese quindi loro si spacciarono per alpinisti o archeologi o quant'altro portando tutta una serie di cassoni con dei regali per poter fare i monaci da portare monaci buddhisti eccetera nel loro viaggio da dove erano sbarcati fino alle falde del tibet conobbero certi personaggi particolari degli dei saggi indiani che noi possiamo immaginare che già prima avessero dei contatti perché non è che tu passi per caso e ti vai a trovare con il saggio non che ti sta che ti sta aspettando e uno di questi un che adesso il nome non chiedete ma perché non me lo possono ricordare piuttosto lo mettiamo sotto nei commenti uno di questi volle mandare un regalo a ditler e gli scrisse una una pergamena dove lui con le sue competenze e sue conoscenze confermava che era hitler un avatar ed era l'ultima come dire reincarnazione di una certa qual divinità no nel dell'india loro nostri scienziati erano la presa la portarono a casa ma non non gli diedero più di tanto peso perché sai l'india misteriosa no tutte queste cose non non arrivarono a ritenerla così così importante quando poi arrivarono su alasa fecero lo ricordo furono forse non dico i primi ma sicuramente fra i primissimi non solo ad entrare nella città santa che sarebbe questa specie di passami termini vaticano al centro di l'asa ma addirittura parlarono direttamente con il lama che all'epoca era visto come una divinità sulla terra quindi era impossibile non andargli a parlare insieme rimasero sette anni fecero le loro ricerche che cosa si sono detti cosa sono fatti non lo possiamo non lo possiamo sapere e quindi ritornarono ritornare in germania ma come mi suggerisci tu i contatti non si interrupero no e arriviamo a queste cinque bellissime donne che intanto andiamo anche a vedere perché chi sono e come sono collegate alla società dei vele come sono collegate al qualcosa che avveniva al di sotto nel palazzo che abbiamo appena visto in tibet esatto allora e qui è una delle parti più misteriose più affascinanti di tutta di tutta la nostra storia no perché queste cinque donne formarono una società del bril bril era stato identificato già nell'ottocento c'erano dei libri che il bril sarebbe un'energia particolare che arriva dal cosmo che solamente alcuni la sanno catalizzare che ti porta conoscenza eccetera eccetera noi nulla sappiamo di tutto ciò queste donne invece pare che conoscessero non soltanto questa forma di energia ma sapessero come catalizzarla no come come riceverla e evidentemente anche sfruttarla la conoscevano anche i buddisti in qualche maniera pare di sì perché queste donne erano delle contattiste erano delle non so neanche trovare il termine potevano parlare a distanza avevano queste conoscenze che su tanti monaci buddisti avevano non lo sappiamo però pare che dalla germania da monaco al tibet i collegamenti ritenessero queste donne in forma mentale se vogliamo se vogliamo dare un termine è vero non è vero non lo sappiamo qualche cosa capisce tra l'altro la lunghezza dei capelli sì ma abbiamo una vista in effetti in certe in certe in certi testi e quando vengono identificate come streghe fra virgolette il senso buono perché sappiamo che nel medioevo insomma queste streghe proprio per poter utilizzare i capelli come catalizzatore no per raccolta io non so se sia vero se non sia vero però si dice si dice questi capelli questi capelli lunghissimi e anche l'idea che qualcuno suggerisse un po un po come a scuola qualcuno suggeriva e anche un po il balzo tecnologico inspiegabile che la germania ha avuto in quegli anni dunque allora la questione non abbiamo più molto tempo quindi cercheremo di di essere veramente succinti la questione è questa la germania era né più né meno che come le altre nazioni europee cioè come la francia come l'inghilterra aveva fatto la sua rivoluzione industriale certamente l'industria pesante ma anche quella meccanica tedesche erano forse le migliori dell'epoca ma non vi era certamente una differenza con le altre nazioni assoluta potevano essere a livello di quell'inglese o quella francese forse un pochino meglio ma ma nulla nulla di più mentre invece subito dopo la salita al potere del partito nazionale socialista ecco che questo gruppo di donne riescono ad avere tutta una serie di contatti riescono si narra che avessero avuto ottenuto in cambio tutta una serie di informazioni da chi non lo sappiamo tramite questi monaci buddisti il mito la leggenda dice che questi monaci buddisti erano in contatto con entità nomi del passato di altri pianeti degli antichi dei non lo sappiamo forniscono una serie di informazioni tecnologiche che le fanno pervenire alle nostre alle nostre contattiste queste senza sapere di che cosa stanno parlando fanno schizzi disegni riportano ciò che gli viene detto e queste informazioni vengono passate a chi a verner von braun che era capo del progetto di penemunde verner von braun che qui vediamo in una bellissima immagine post guerra era un ingegnere tedesco che fu e qui accanto a kennedy prima del 62 insomma perché poverino kennedy ha fatto una brutta fine però kennedy sponsorizzò moltissimo la questione della della nasa dunque che cosa era successo a penemunde una località sul baltico venne costituito un centro di studio dove i migliori ingegneri scienziati matematici tedeschi furono ma in realtà non solo perché si fuori dei francesi fuori degli italiani non ce ne sono anche altri che che vennero vennero portati in quest'ambiente grazie alla loro scienza grazie alla loro conoscenza grazie anche pare a queste informazioni ottenute dalle nostre donne del vril tramite i monaci i monaci buddisti ecco che fanno fare un salto tecnologico soprattutto in ambito delle armi che è veramente impareggiabile se noi abbiamo tempo e voglia andiamo a vedere i carri armati del 1930 che sembravano delle scatolette di tonno noi in italia avevamo il cingolato fiat che immontavano sopra delle lastre e una metagliatrice breda e questo qui era il massimo che potevamo avere all'epoca nel 35 c'era già la prima serie del tiger no il cararmato tedesco che è ancora la base di quelli che abbiamo oggi no vennero fatti appena e munde furono creati i super cannoni vennero creati i primi aerea reazione come quelli che abbiamo adesso vennero create il d1 e la b2 che erano la base dei razzi la base dei razzi che furono alla fine della guerra quando il nostro vermer von braun assieme ad altri 1200 fra scienziati ingegneri si consegnarono agli americani e tramite un progetto cioè c'è un accordo precedente questi furono portati negli stati uniti e forma crearono la nasa quindi per il volo sulla luna velocissimo adesso un chiacchierone ti prendo io ti lascio andare ora cosa succede che alcuni di questi che vengono portati negli stati uniti fra questi vi era l'ingegnere schnell che invece fu dirottato assieme ad altri scienziati in inghilterra formola british quello che è la corrispondente della nasa inglese che però per mancanza di fondi non poter fare la corsa allo spazio allora furono riciclati nella progettazione di motori e i motori rolls royce compreso l'ultimo che fecero poi erano anziani fu quello del concord cioè i motori rolls royce cioè i migliori motori aerei al mondo erano fatti da questi ingegneri tedeschi che c'erano trasferiti meriterà poi una puntata a parte cosa che è accaduto al nazismo dopo la guerra ma adesso anche giusto per fra l'altro per farvi capire anche un quanto in realtà l'oriente l'india il tibet abbiano influenzato la la tecnologia tedesca si parla un po del cosiddetto un suo pelivolo strano del sinantismo che è palesemente un di mana ecco sostanzialmente sì che dicono anche quello è un ulteriore si prova ma arrivando poi quindi alla guerra il caso un po eclatante un po il mistero di fondo e quelle le donne di cui abbiamo parlato con le donne di questa società nevril scomparvero improvvisamente fra la fine di aprile e i primi di maggio del 45 allora una delle teorie è che queste donne assieme a diversi gerarchi diverse ss gli irriducibili ed altri furono imbarcate su degli u bot nel bar baltico e andarono nella base della nuova sveglia in antartide dove risulta che furono anche portati pare che di questi venivano chiamati a nebu questa sorta di dischi volanti ma erano dischi volanti nel senso che erano sì fatti come dischi volanti ma erano degli aereoplani di terrestri cioè non era nulla di extraterrestre noi erano viti e bulloni con motori motori particolari ne vennero messi in funzione dagli otto ai dieci ci sono ma ne parleremo faremo una puntata su questo perché sono testimonianze dei piloti inglesi merita non una puntata una serie di puntate fra l'altro cominciate fin d'ora andare a guardare anche quello che abbiamo già realizzato sull'antartide andate ogni tanto a guardare le puntate precedenti ma io come ringraziamento finale intanto voglio raccontare che tu hai un canale youtube che loro sicuramente conoscono ma è giusto anche ripassarlo perché si interessantissimo marcus henry de graia si scrivetevi perché veramente lo posso dire una dei personaggi più più eclatanti che mi è capitato di riconoscere in quanto a conoscenza penso che tu abbia ben pochi rivali e rimanendo umili e soprattutto la cosa che mi fa piacere che questa è la seconda puntata e ti ritrovo televisivo hai preso i ritmi televisivi meglio di me perché abbiamo riassunto quello che secondo me è una conferenza di quattro ore in 40 minuti quindi sei veramente sei una sorpresa costante ogni volta che ci vediamo e insomma quindi intanto seguitelo perché merita davvero è come vedete è un'amicizia di cui sono molto geloso e faremo ancora un sacco di puntate assieme grazie a voi amici da casa per averci scelto iscrivetevi anche al canale youtube la pagina facebook abbiamo anche la pagina instagram un po ovunque seguiteci un po ovunque e ringraziamento finale ovviamente a te marco grazie grazie a tutti per la pazienza e se vi piacciono questi argomenti io con gianluca organizzeremo delle altre puntate un ad esempio sui nostri a nebo la farei volentieri tempo di guerra e post e post guerra no e poi posso dirlo la voce ne avevamo prima magari qualche puntata sui voli in cielo nei sette cieli sia di enoch che di maometto e quindi direi che questi sono insomma gli argomenti non ma no non mancano grazie per averci scelto se questa trasmissione vi piace mi raccomando passate parole parole passate parole grazie a voi andiamo in siga grazie a nostra registra manuel e come al solito e qua insieme alla repuntamento la prossima puntata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.